Natanino per Shone, il duo è presso, il duo è presso però va bene, quindi va bene Shone dall'altra parte per il miglior tanto di Nara, porta vuota, porta vuota, porta vuota E che volete ragazzi che non si confermi il miglior tanto di Nara, io l'appoggerai di testa Io l'appoggerai di testa, si ok, appoggio di testa così allora ragazzi, proprio umiliante Guardate la miglior tanto di Nara come l'appoggio di testa Cos'è? Cos'è? Ma non è ragò? Ma non è ragò? Ma non è ragò? Non ci credo Ma non è ragò? Ma ragazzi, ma era ragò? Ma era dentro! Ma è dentro Clamorosa! Ma è dentro Clamorosa! Ma non si può vivere così! Ma è dentro Clamorosa! Ma basta! Ma basta! Basta questi qui! Basta con questi qui! Ma è dentro Clamorosa! Gigi perché non l'hai detto? Gigi! Gigi! Guardami negli occhi Gigi! Perché non l'hai detto grande campione Gigi! Ma che roba brutta! Ma smettetela di farci queste cose! Ero... 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 Ma ha bucato la rete! Il mio ortenimento di Nara ha bucato la rete! Ma... Alius Commesse! Ricordate l'hashtag Alius Commesse ragazzi! Ero... 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 Ero...